Allora ragazzi oggi ci lanciamo in questo gioco veramente di una violenza inaudita Adesso vi faccio vedere, partiamo dal primo livello e vi renderete conto immediatamente di che cosa sto parlando Mi adoro questi giochi stile retro All'inizio posso scegliere i tipi di maschera da indossare, io ne ho sbloccati già un po' Adesso vi faccio vedere quelli un po' avanti Allora qui siamo in questo mino praticamente che senza nessuna ragione apparente va in giro a spaccare i culi Questo si sta urinando, ecco questo dovrebbe succedere Deve essere abbastanza veloci perché altrimenti ti fanno subito Ci sono delle armi veramente, delle armi più disparate Mazze da golf, bottiglie, coltelli, mitra, uzi Ecco Ci possono anche lanciare le armi, in quel caso se non sono affilate, comunque contundenti Non uccidono al primo colpo Come in questo caso non ha fatto una mazza di golf e non ha ucciso, ho dovuto stenderlo così Oh, il rimbalzo l'ha preso, incredibile Ok Praticamente l'obiettivo di questo preludio è recuperare la valigettina Prendiamo un'arma a caso Così la lanciamo addosso ai bad guy Mamma mia, spacca teste proprio Nooo, ce l'avevo fatta Ecco No Oddio, che massacro Un'arma qualunque Ci facciamo Ok Oddio Eccolo qua Adesso uccidiamo il tipo Recuperiamo la valigetta Il primo livello dovrebbe essere pronto Finito Se non che scendendo Altri bad guy Che dovrò uccidere a colpi di valigettate Ecco, non in questo modo magari Ma vuole Ma vuole Ma vuole Boh Boh Ok, adesso posso suonare Alla macchina Ho lasciato la valigetta in un cassone dell'immondizia Finish Vabbè, non si vede ma in realtà sta svumando Il primo livello Anzi, il preludio l'abbiamo finito Veramente incredibile La violenza allucinante Ah, più Fantastico E si sblocca lo scorpion Ma questi sono Dei intermezzi Che in realtà Non ho ben capito A cosa servono Insomma Adesso facciamo il secondo livellino Questa è casa mia Questo è il Nintendo Vabbè, questo lo saltiamo Va bene, va bene C'è bisogno di te Usciamo Ok Groppa la DeLorean Non parlare No, avevo preso la maschera di prima Praticamente I comandi sono abbastanza semplici Con il Waz ci si muove Col tasto sinistro C'è l'attacco Col tasto destro Recupero e abbandono Drop delle armi Nonché se c'è un'arma in mano Si lancia Sempre col tasto destro Ecco Questi sono degli errori Che Molto grossolani Ecco Per finire un nemico a terra Basta schiacciare la barra E dopo Mazzuolarlo col tasto sinistro Ecco Quello C'è un bel pompa No, non c'è nessuno Ok No, il cortellino Mi sembra più Fa più a caso mio Ok Ne ci vuole anche stile Facciamo che attiriamo un po' L'attenzione Perché le armi ovviamente A colpo al corpo Le attirano Ecco Non si sparo Sulla porta Bene Perfetto C'è proprio da manuale A meno Ci siamo andati vicini Sempre gli intermezzi che Avrebbero potuto evitare Una pizza ci sta La pizza ci sta Ecco E Lo